Testa coda di classifica nella decima giornata del girone I di Serie D. Nonostante un gap di ben 11 lunghezze in graduatoria, la Nissa affronta la capolista scafatese con tanta voglia di strappare punti pesanti. I padroni di casa infatti sono invischiati in zona play-out e reduci da tre pareggi consecutivi di contro i campani. Dopo qualche settimana in chiaroscuro hanno ripreso a correre grazie al 3-1 inflitto nel derby al Pompei. Partiamo dalle formazioni Nissa con Cassano, Natale, Barrera, Bruno, Tuminelli, Rotulo, Agnello, Maltese, Zarrillo, Diaz e Semenzin. Risponde la scafatese con Becchi, Altobello, Di Paola, Marchic, Aliberta, Cham, Esposito, Vacca, Albador, Neglia e Palmieri. Tutto pronto allora per il film del primo tempo, subito un'occasione, subito un gol. Calcio d'angolo dalla sinistra, viene deviato da Tuminelli e un assist per Marchic che la gira sul primo palo e fa 0-1 scafatese. Inizia così il match, subito una doccia gelida per i biancoscudati che però non demordono e provano a riorganizzarsi. Semenzina è grossa per Rotulo che arriva a colpire al volo, colpisce anche un eclamoroso palo interno. Al quinto lanci in profondità di Cham per Palmieri che riesce a sfruttare l'errore difensivo. Conclusione deviata sulla traversa da Cassano, brividi da una parte e dall'altra. Al ventunesimo cross di Aliberta, Albadoro sul secondo palo, ancora una deviazione del legno e di Cassano. Minuto 21, Bruno in buca per Semenzin e l'argentino supera l'avversario, si accentra, arma il destro. Conclusione che viene ingoiata dall'estremo difensore Becchi al ventisettesimo. Caloppata di Cham che va a saltare Bruno e apre per Palmieri il pallone in area di rigore. La conclusione violentissima, sfera che finisce il rete, ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco. Minuto 28, Rotulo, a pra sinistra per Zarrillo, il pallone dentro. Dove c'è Diaz che arriva a rimorchio e fa 1 a 1. La Nissa pareggia con il proprio numero 9, minuto 35. La Scafadese risponde presente, Palmieri arma il cross dalla destra. Ancora Markic che cerca il tentativo dal limite, respinto, sfera che rimane però lì dove Neglia va a calciare. Cassano ancora si avventa il tobello e manda il rete. Il gol dell'1 a 2, Scafadese che non molla, vuole i tre punti a tutti i costi in Sicilia. Minuto 30, punizione di Agnello. La Nissa non resta a guardare, il pallone finisce infatti sulla testa di Capitan Barrera che manda dentro il 2 a 2, mille emozioni al Tomaselli alla fine del primo tempo. Già 4 gol e il risultato in equilibrio. Due volte avanti la Scafadese, due volte raggiunta dalla Nissa. Partiamo con il film della ripresa. Minuto 46, la Nissa parte forte con il pallone che da Maltese finisce ad Agnello. Il colpo di testa invece termina sul fondo. Minuto 52, Tuminelli va a triangolare con Maltese. Alza i giri del motore la Nissa, il pallone ancora una volta bloccato da Becchi. Minuto 54, terza chance consecutiva dei biancoscudati. Punizione di Maltese respinta da Becchi. Il pallone arriva a Tuminelli, va a calciare ancora una volta il portiere della Scafadese in appresa centrale, 65esimo. Terranova dice Samaghe per Semenzini, al 72esimo Pagano per Agnello, 74esimo. Calcio di punizione di Maltese e i cambi premiano perché il neo è entrato Pagano. Ci prova una prima volta, ci prova una seconda e la mette in porta da zero metri. Di fatto Diaz che fa così, 3 a 2, doppietta personale per lui. Clamoroso al Tomaselli e avanti la Nissa. Entra dal loro per rotulo, minuto 85. Scafadese che si rivede, cross allontanato dalla difesa. Il pallone recuperato da Sowè che di testa serve Cagliardi. Toccato così da Natale il direttore di gara è lì, non ha dubbi, indica il dischetto. Calcio di rigore, può sfumare una clamorosa impresa per la Nissa. Si presenta, foggia dal dischetto, ma la sfera finisce alle stelle. L'attaccante ha anche da ridire sul terreno di gioco. Al novantesimo entra Mannino per Diaz, 92esimo entra Neri per Natale, 95esimo. È letteralmente apoteosi Nissa perché da una spazzata di Maltese parte il contropiede. Samaghe, uno contro uno con Marchic. Viene letteralmente bruciato il difensore della Scafadese, Samaghe davanti al portiere. È gelido, mette il punto esclamativo, mette la ciliegina sulla torta. Una giornata epica per la Nissa che batte la corazzata Scafadese nella decima giornata del campionato di Serie D Gironei. Una vittoria importantissima anche in chiave classifica. Una sconfitta in Sicilia invece per la quotatissima compagine campana. Finisce così Alain Marco Tomaselli, amici di WeSport. È tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.